eccoci pronti per l'assaggio di questa bella matriciana vedete? via! mamma mia! che profumi! bucatino cotto al punto giusto bucatino assassino speriamo di non sporcarci guanciale coppa al punto giusto se vi è piaciuto il video commentate condividete con tutti i vostri contatti iscrivetevi al mio canale che è gratis e poi azionate la campanellina così sarete sempre avvisati dei miei prossimi video che andrò a pubblicare ciao a you e che ve lo dica qua